Dottor Mengheri, qual è al suo avviso il beneficio che l'insegnante può avere nell'essere supportato da una figura professionale come quella dello psicologo? Oggi, e questo l'ho detto anche in occasione dell'ultimo convegno giunti in classe Un Bambino Che, dove presidevo una tavola rotonda sul benessere, sullo stress in ambito scolastico per l'appunto, oggi probabilmente l'area che rappresenta forse il maggior stressor per gli insegnanti, per i docenti, è l'area del rapporto famiglia-docente. Questa è un'area di certo intervento, quindi di creare relazioni positive, di creare i ponti, c'è tutta l'area del bullismo, l'area dell'impostazione e della valutazione. Certamente noi non ci vogliamo sostituire agli insegnanti, non siamo in grado di fare gli insegnanti, non è il nostro ruolo fare gli insegnanti, però possiamo coadjuvare un lavoro riducendo gli stressors ambientali, su questo non c'è dubbio.